Un'altra questione è l'istituzione dell'eucarestia. Io non so se qui dentro c'è un ebreo, se c'è un ebreo potrà confermare queste mie parole. Gli ebrei hanno un forte tabù del sangue. Il cibo kosher è un cibo che è stato rigorosamente dissanguato. Le donne mestruate sono impure perché hanno un flusso di sangue. La donna che ha partorito deve fare delle purificazioni perché nel parto c'è stato il sangue. Insomma, gli ebrei hanno un forte tabù del sangue. Gesù ebreo in una tavolata di ebrei arriva e dice mangiate il mio corpo e bevete il mio sangue. Questo è il mio sangue. Il sangue della nuova alleanza che sarà versato per tutti gli uomini. Scusate, è una barzelletta. È veramente una barzelletta. Tant'è vero che ne parlano solo i tre sinottici, ma Giovanni non ne parla affatto. E guardate che la descrizione dell'ultima cena nei tre sinottici è mezza paginetta, una ventina di righe. Nel quarto Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, l'ultima cena sono cinque capitoli. Cinque capitoli. E in questi cinque capitoli Giovanni non si sogna nemmeno lontanamente di parlare dell'istituzione dell'eucaristia teofagica. Teofagia vuol dire mangiare il Dio. Mentre invece c'erano innumerevoli teologie precristiane nel Mediterraneo orientale, nel vicino oriente, in cui si doveva mangiare la carne e bere il sangue di un animale che rappresentava il Dio. Ma questo è stato San Paolo. È stato San Paolo che ha appiccicato sulla storia di Gesù queste teologie ellenistico-orientali. C'è un documento che si chiama Didache. E' un antichissimo documento cristiano che risale probabilmente dalla prima metà del secondo secolo che doveva servire come manuale di istruzione per i cristiani. A un certo punto parla dell'eucaristia e la descrive esclusivamente come una cerimonia di ringraziamento. Cioè, che cosa succede? Il Messia sacerdotale, questa volta non quello regale, esegue la fraxio panis, cioè spezza il pane, lo distribuisce ai fedeli, ringrazia il Signore, dopodiché versa il vino nei bicchieri, ringrazia il Signore e questo è tutto. Nient'altro. Non c'è il concetto di mangia il mio corpo e bevi il mio sangue. E questo in un antichissimo documento cristiano che è appunto la Didache.